Arroccato su uno sperone di roccia e circondato da una corona di monti, signori a voi Monte Corone, senza dubbio una delle vedute di maggior fascino di tutta la montagna modenese. Ma Monte Corone è anche natura, la piccola valle su cui sorge il paese è dominata da un'imponente parete rocciosa, stile canyon, conosciuta a tutti come il sasso di Sant'Andrea. Sveglia, sveglia amici, preparatevi per una breve camminata attorno al sasso. Ci siamo, allora... Insomma, il paesano di provincia, tra borghi storici e molteplici castelli medievali. Buongiorno signor Gallo!